Ah, stanno in diretta, poi dopo mi dici eh? Stiamo in diretta su YouTube? Motocross, no? Skateboard? Perdonate. Red Bull? Ah, questi fanno agrobacchie, agrobacchie sulla motocross, sulle moto da cross. Siamo tutti americani comunque. Siamo al Colosseo, Giancarlo, a bordo dei secchi, vedete? Ecco qui, connesso, no? A riprendere questa presentazione, backstage, motocross.